Non amare chi mostra, ma chi dimostra. Ci sono persone che si innamorano di chi mostra qualcosa, ma poi in realtà non ha nulla dentro, è vuoto, totalmente vuoto. Tu devi smetterla di amare le persone che mostrano qualcosa, ma che di fatto non hanno nulla. Invece ama chi dimostra, chi dimostra di essere, chi dimostra di meritare, chi dimostra di valere. Ama chi dimostra. Questo è il concetto fondamentale e le persone che mostrano, ma che sono vuote dentro, levatele dai maroni, toglitele dai maroni, perché è merce inutile, è merce avariata da buttare, da rottamare, da buttare nell'indifferenziato. Seguimi su tutti i canali YouTube, metti un like e con l'abbonamento base segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti!